7 vittorie nelle ultime 8 la Juventus può fare un filotto di questo tipo ricordiamo che la sconfitta arrivò contro la Roma e ci ricordiamo che la partita che è stata può fare un filotto del genere a netto di quella che ogni volta è il gioco la prestazione che ci troviamo ad analizzare a commentare lo faremo anche stasera quando in realtà per me non è affatto semplice credetemi oggi va veramente così anzi vi chiedo scusa se mi trovate un po' più abbacchiato del solito ma quando anche un po' giocando nel riassuntone poi valutiamo la classifica e tendiamo un po' a prevedere quello che può accadere quando io dico la Juventus ha la possibilità ha le armi ha la potenza ma proprio parlo della potenza la potenza per puntare ad arrivare nelle prime 4 nonostante la classifica attuale nonostante la sentenza il futuro quello che può accadere ma io parlo di campo parlando di campo ad oggi nonostante i meno 15 la Juventus è talmente attrezzata che può arrivarci oggi giocava guardando guardando gli undici in campo quelli che sono scesi in campo in quelli che sono scesi in campo bisogna bisogna togli e bisogna sottrarre Di Maria Chies Rabiot Kostic Vlaovic cioè la Juventus senza questi 4 tranquilla poi alcuni sono entrati alcuni invece mancavano ed erano totalmente indisponenti ma ditemi qualsiasi altra squadra che resterebbe competitiva ditemi qualsiasi altra squadra che resterebbe competitiva togliendoli sti 5 che ho menzionato e la Juventus per gran parte della stagione non l'ha avuti proprio a disposizione ci sarebbe anche Pogba ma Pogba quasi non lo considera neanche più un giocatore della Juventus un giocatore di calcio in generale ma se vogliamo anzi di dovere è doveroso anche buttarlo dentro anche lui cioè ditemi qualsiasi altra squadra citando quelli che avevo detto che resterebbe competitiva e nonostante ciò la Juventus vince e lo fa per come per quello che vedo io lo fa anche col minimo no col col minimo con lo sforzo minimo con lo sforzo cioè io ho sempre la sensazione una sensazione costante che la Juventus in un modo o nell'altro queste partite porti a casa prima parlavo appunto quando abbiamo commentato l'Inter parlavo di un Inter che se va sotto tu già già sai già sai che finisce così finirà così non ci sarà nulla da fare passerà il tempo ma la sorte è scritta è quella invece io vedo giocare la Juventus e in queste partite no lì che stanno lì no che nel primo tempo se vai a vedere c'è stata quella grande occasione di De Paoli poi la traversa di sul tiro deviato là di quadrato non un grande primo tempo ma già sai io già sapevo in cuor mio che un modo o nell'altro o con l'ingresso di un giocatore o con l'altro o con una transizione o con un'accelerazione o con una giocata individuale io sapevo che finiva così stasera per la Juventus lo sai lo sai questo cosa significa per me per quello che voglio raccontare io significa che che la Juventus è troppo più forte delle altre anche col minimo sindacale la Juventus è troppo più forte delle altre ragazzi io la vedo così io la penso perché io penso vedendo giocare la Juventus alcune volte sotto ritmo alcune volte no anche oggi no dopo 1-0 tu devi andare a sfondare la partita puoi sfondare devi chiuderla devi provare invece la Juventus si abbassa concede magari anche poco però nel secondo tempo c'è stato quel tiro di Terraciano e deve ed è costretto Scesni a fare un grande intervento e quando tu invece con ripeto la corazza e per corazza la rosa intendo la rosa che hai puoi e devi andare a sottomettere l'avversario sempre e comunque cosa che non fa e che non vuole fare neanche non vuole fare neanche la Juventus eppure vi dico che io ho la sensazione perenne che lei penso le porti a casa queste partite e non parlo di bravura tattica non parlo di una squadra che gioca magnificamente a calcio non parlo di una squadra che a me piace vedere io vi dico la verità al di là della rivalità del senterista quindi se vedo squadre che mi piacciono giocare lo dico però dico anche e tranquillamente che l'unica squadra secondo me in Serie A che si può permettere di giocare come gioca ma di ottenere risultati è la Juventus qualsiasi altra squadra con il gioco della Juventus non otterrebbe gli stessi risultati perché la Juventus è troppo più forte delle altre per me è molto semplice il discorso è molto basilare la Juventus è troppo più forte delle altre oggi poi mette fuori Baranesea mette dentro Miretti bellissimo bellissimo l'assistente Miretti per Locatelli cioè il gol che fa la Juventus è un gol di qualità ecco non è che la Juventus no perché poi c'è una cosa che mi farà io posso accettare tutto ma tranne quello di sentire che la Juventus non è così attrezzata non è così no sì ma gli mancano alcune alcune qualità la Juventus non gli manca nulla vedi il gol anche stasera perché poi il calcio lo dobbiamo guardare se non lo guardiamo parliamo del nulla vedi il gol stasera dell'Eventus un gol di qualità bella la palla di prima di Miretti bravissimo Locatelli che secondo me ha fatto una grande partita in back again e anche lui fa una grande giocata da attaccante noi in aria due tocchi via dentro e quindi questo per dirvi la Juventus mi dà sempre la sensazione che può fare di più che sia contenta di poco ma ho anche sempre la sensazione che la Juventus di Riff di Raff in un modo nell'altro la Juventus queste partite te le porta a casa e parla dei risultati parla della classifica la Juventus è là la Juventus è là nonostante il meno 15 visto anche l'andamento delle altre e lo stiamo vedendo la Juventus può assolutamente pensare pensare in alto pensare pensare e lottare per le prime quattro ancora una volta tranquillamente tranquillamente e Allegri la farebbe passare come come un miracolo sta roba qua io invece dico che la Juventus può farlo tranquillamente non sarebbe nessun miracolo anzi sarebbe l'ennesima dimostrazione che la Juventus è talmente più attrezzata delle altre talmente più forte che che sotto gli occhi di tutto poi ripeto questa è la mia la mia visione è quello che io percepisco che sento ogni volta che vedo giocare che vedo giocare questa squadra qua ho parlato ripeto dei calciatori che l'Aventus può permettersi no può permettersi anche alcune assenze cose che altre squadre secondo me non riuscirebbero mai a soccombere e comunque l'Aventus porta a casa un'altra un'altra vettoria importante contro un Verona che comunque è mai domo un Verona che secondo me può giocarsi le sue chance ancora per la salvezza ovvio che oggi contro contro l'Aventus non era non era affatto affatto semplice ora passano le statistiche 10 tiri a 9 2 solo tiri in porta dell'Aventus 3 solo in quelli del Verona una partita molto equilibrata se andiamo a vedere le statistiche e niente ragazzi vi ho detto quello che quello che è la mia il mio sentore il mio status mi scusate se stasera sono un po' abbacchiato fatemi sapere cosa ne pensate a voi commentate le carte se volete iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neski grazie a tutti Grazie.